Stai bene? Mi avete lasciato nella merda. Avresti dovuto portarci direttamente dal generale. Non sono io a decidere. Sono solo un soldato, faccio quello che mi... Solo un soldato? Hai fatto arrivare sei chili per loro! Avrei fatto nascere sospetti, mi avrebbero spogliato completamente! Ci vediamo stasera e speriamo di salvare qualcosa, altrimenti quattro anni di duro lavoro saranno finiti nel cesso! Ma di che parli, mi... Oh, vaff... Anna, vuoi venire a giocare? Vuoi andare a giocare con Nina? Tesoro! C'è lei, no? Non adesso! Ti vedo! Ciao! Ciao, Nina! Vuoi giocare? Sì! Entra pure! Grazie! Andate in giardino! Perché non hai fatto come ti ho detto? Aspetta un attimo! Perché cazzo non sei partita? Pete, sei tutto sporco di sempre! Rispondi! Perché non hai protetto Anna? Io voglio sapere quello che succede! Perché non hai voluto proteggere Anna? Mi dispiace! Non dire, mi dispiace! Vaffanculo, mi dispiace! Avresti dovuto portare Anna da qui a Luna! Ci abbiamo provato! Credi che quella gente si farebbe un problema ad decidere tutte e due? Ci abbiamo provato! Ci abbiamo provato, cazzo! Abbiamo girato in tondo sperando che tornassi! Pezzo di... Perchè! Cazzo! Tornassi! Cazzo! Cazzo! Grazie a tutti.